Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente iniziamo la serie serie non è che sarà una serie lunghissima nel senso che si insomma non è piccinissima a casa mia però non è neanche per dire la reggia di caserta ecco insomma, milioni di stanze no iniziamo quindi la mini serie di video dove vi mostro come ho sistemato, come ho arredato casa cominciamo con la camera da letto che in realtà è un po' un mixo perché qui c'è anche la zona quella dove filmo i video insomma che mi piace tantissimo perché ho ricreato un piccolo tavolo vanity vi lascio nel box informazioni tutti i link alle cose che ho preso online mentre invece per quanto riguarda l'arredamento di base quindi le cose che non troverete nel box informazioni è perché l'ho prese al negozio di arredamento che peraltro non è neanche in franchising, è un negozio che c'è qui in zona e quindi non è per dire mondo convenienza, Ikea o questi insomma che sono facilmente reperibili quindi non conosco neanche il brand dell'arredamento per dire ok cominciamo con altra piccola premessa che molto probabilmente più avanti farò degli update perché sto continuando nel tempo a cambiare cose, ad aggiungere altre cose per renderlo quanto più funzionale possibile comunque cominciamo questa quindi è la porta dell'ingresso alla camera da letto qui c'è il corridoio poi farò vedere nei prossimi video e questa fondamentalmente è una panoramica della camera da letto qui c'è questa zona vuota, ora vi mostro qui perché stavo filmando quindi c'è ancora la ring light c'è questa zona che in realtà sfrutto molto per delle foto perché ha la parete bianca che però, mi dico la verità, mi piacerebbe aggiungere un altro mobiletto qui non so se una cassettiera più bassa rispetto al settimino non lo so, sarebbe molto comoda in realtà, devo capire un attimo dunque questa accanto al letto è la zona make up barra ufficio barra video dove parto da questo? partiamo dalla scrivania allora la scrivania, questo è un tutt'uno praticamente è una scrivania che ho preso su Amazon ed è carinissima, è anche richiudibile praticamente questa parte qui si chiude e diventa piccola e mi piaceva tantissimo perché aveva anche di lato questo scaffalino un tutt'uno e quindi l'ho trovato molto molto utile allora qui semplicemente cosa ho messo? vabbè la targa questa qui di T-Lap con il primissimo prodotto e a breve ci sarà il restock del Siero ma ci sarà anche un altro lancio con altri prodotti all'interno non vedo l'ora e sono felicissima perché questi prodotti li avrei dovuti lanciare tempo fa poi però per via di alcune cose ho dovuto posticipare e quindi adesso usciranno direttamente insieme appunto in un unico lancio comunque torniamo al video qui c'è la mia etichettatrice di questa non ho parlato credo alcuni anni fa e io l'amo amo questa etichettatrice perché è semplicissima da utilizzare attraverso l'app e praticamente si possono mettere all'interno dei nastri tutti colorati particolari o la semplice etichettina bianca adesiva oppure nastri tutti quanti colorati carini eccetera mi piace un sacco ed è veramente molto comoda ad esempio per le cose in cucina ma l'ho utilizzata anche per per mettere ad esempio il nome sul citofono per dire no molto molto comoda poi qui sotto allora qui ancora vi dico la verità un po' work in progress però per ora c'è la lampada di sale che mi ha regalato la mia amica Martina ciao Marti non so se stai guardando questo video ma grazie ancora ha una storia ha una storia e ci tengo tantissimo a questa lampada poi abbiamo aspettate che mi siedo così vi faccio una panoramica migliore ecco qui questa è più o meno una postazione make up più o meno vi spiego questi sono i prodotti che circa utilizzo di più nel quotidiano certo non è che li utilizzo tutti e tutti nel quotidiano però sono quei prodotti che quotidianamente mi capita di utilizzare di più qui c'è il portapennelli chiuso comodissimo perché così non si impolverano i pennelli di lato ha dei cassettini dove all'interno tengo le spugnette per il fondotinta poi c'è questo allora io prima avevo i prodotti quelli là che utilizzo quotidianamente li tenevo all'interno delle pochette però mi trovavo scomoda mi trovavo scomoda perché praticamente quando finivo di truccarmi finivo sempre per lasciare tutti quanti i prodotti sulla scrivania ma da sempre è così perché sono tanti anni che i trucchi quelli del quotidiano li tengo all'interno delle pochette però come vedete sono parecchi quindi capitava anche di avere un paio di pochette e ogni giorno quando io dovevo andarmi a truccare praticamente prima di truccarmi tiravo fuori tutti quanti i prodotti poi alla fine se stavo di fretta lasciavo tutto sulla scrivania è un urto incredibile perché poi avevo sempre disordine invece così è veramente comodo perché ho a portata di mano tutto quello che mi serve quindi mi serve qualcosa lo prendo lo uso e lo rimetto dentro prendo il mascara uso rimetto dentro in questo modo non mi si crea disordine sulla scrivania cioè io finisco di truccarmi che è di nuovo tutto già così e questa cosa è veramente tanto tanto comoda e questo praticamente ho trovato questo set dove c'è tutto quanto insieme questi sono praticamente quattro blocchi quindi c'è questo qui sopra i due cassettini e questi qui quindi si possono mettere o tutti separati oppure impilarli uno sopra l'altro mi piace mi piace perché trovo che sia esteticamente carino molto funzionale comodo bello 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 qui ci sono io ciao allora questa è la lampada che ho scelto per il tavolo non fate il caso che io non mi sia macchiato il muro ma va bene questa è la lampada che io ho scelto per il tavolo mi piaceva perché era bianca ed è molto comoda almeno per quanto mi riguarda perché è una ring light peraltro dimmerabile e ha la luce calda e la luce fredda e qui ha il portatelefono quindi è comodissima per me che utilizzo appunto tanto i social per lavoro ragazzi questo specchio parliamo di questo specchio parliamone perché per me è qualcosa di meraviglioso allora esteticamente molto minimal semplice carino ma qui c'è il lato quello insomma normale girando ok c'è lo zoom 10x ragazzi 10x sapete che vuol dire 10x vuol dire che io praticamente riesco a vedere ogni peletto qui delle sopracciglia super ingrandito infatti mi devo mettere molto vicino vediamo un po' se c'è scritto ancora ecco vedete non so quanto si lega ecco bisogna mettersi a 10 cm di distanza perché ingrandisce veramente tanto per fare le sopracciglia ragazzi cioè non perdete neanche un peletto perché vedete tutto iper ingrandito io non ho mai visto uno specchio 10x quando io ho preso questo l'ho preso perché era semplice mi andava a richiamare le cosine insomma di questo materiale ma non avevo visto che aveva questa caratteristica del 10x che è qualcosa di fenomenale spero di avere tutto attaccato anche i microfoni sì ok e no perché in tutto ciò sto filmando con il nuovo microfono che mi ha regalato Marta io ho delle amiche fantastiche ragazze mi voglio bene non perché mi fanno i regali ma perché sono persone che so che mi vogliono tanto bene e anche i regali appunto che mi fanno non sono infatti così giusto per fare ti regalo questa cosa giusto per no sono tutti regali che hanno un significato ok quindi sono sono pensati e questa cosa mi riempie tanto tanto il cuore specchio 10x se volete farvi le sopracciglia alla perfezione togliere ogni minimo peletto anche il più piccolino ve lo straconsiglio considerate l'ho appena regalato anche a mia mamma perché gli ho detto no cioè devi avere questo specchio che è qualcosa di meraviglioso poi scendendo qui abbiamo la mia stampante questa che occupa poco spazio l'ho usata ieri mi è finita anche la carta peraltro si può anche spegnere a questo punto e questa è comoda perché in realtà occupa poco spazio ora questi fogli qui in realtà si possono anche buttare via ecco vedete una volta chiusa occupa poco spazio e cioè in diversi in diversi colori la volevo prendere tutta bianca ma era terminato il colore purtroppo quindi vabbè alla fine ho preso questa ma comunque è carina mi piace perché mi va a riprendere poi il discorso di tilap quindi mi piace lì sotto c'è lo spray per i vetri che non c'entra niente la risma di carta per la stampante quella è la scatola del macbook pro questo è il secchio della scrivania ed è in bambù mi piace tantissimo veramente stra stra carino io praticamente cosa faccio qui dentro getto tutto quanto insieme come vedete non metto il sacchettino all'interno perché poi dopo quando lo devo andare a svuotare a quel punto faccio la differenziata quindi inizialmente metto tutto insieme e poi dopo vado a differenziare plastica carta eccetera eccetera quindi per questo ho scelto di non mettere il sacchetto altrimenti dovrei mettere più bidoncini ma insomma non mi andava poi ho preso questa presa multipla scusate il gioco di parole che è salvaspazio vedete è estremamente sottile e questa io vorrei attaccarla qui sotto tipo ok ho preso anche un nastro biadesivo molto forte che mi piacerebbe metterla qui dietro in modo che mi vanno a scomparire i fili devo capire come metterla la devo un attimino studiare cioè deve essere sia comoda quindi devo capire se così magari però devo farlo in un modo che poi non mi ritrovo neanche i fili poi a penzoloni perché come vedete io sono carica di fili devo un attimino capire come come gestirmi questa situazione fili se avete idee consigli è ben accetto poi settimino che io ho sfruttato per tutto quanto il discorso del make up e l'attrezzatura video allora sopra al settimino ci sono le riviste di Nailab questa è la cartolina che viene con gli acquisti di T-Lap c'è una piccola radiolina qualche penna e il mio libro belle airpods qui allora questi sono i bracciali che avevamo io e Giulia in ospedale questo è un regalo di Elena ciao Elena non so se guardi anche tu questo video ma grazie di cuore e questo è un porto occhiali carinissimo anche di occhiali ne avevo tantissimi e ho scelto di fare una super selezione solo con quelli che utilizzo di più e come vedete sono 6 qui e di là ne ho un altro e quindi 7 paia per ora e sto prima ne avevo veramente tantissimi ma mi sono resa conto che non li utilizzavo più di tanto poi settimino allora vi farei vedere vabbè qui dentro ci sono tutte quante le cose dell'attrezzatura da lavoro tipo caricabatterie piccoli treppiedi eccetera eccetera poi anche il posto dove vado a rimettere queste cosine qui i cassetti sono ancora un po' work in progress ci devo ancora un pochino lavorare intanto queste cosine per i capelli dovranno sparire da qui e avevo comprato questi organizer però penso di volerne prendere degli altri magari un pochino più grandi non lo so devo un attimino studiarmi anche questa situazione vedete questo è il cassetto delle palette ed è il degrado più totale devo capire come organizzarle un pochino meglio in quest'altro cassetto c'è questo che è un portapennelli di sigma anche per quanto riguarda i pennelli vi dico ho fatto una super selezione quindi questi insieme ai pennelli che sono nel portapennelli sul tavolo sono i miei attuali pennelli poi qui dentro invece c'è il mio nuovo silk peel che è una bomba ragazzi e anche la lucina questo aspettate ve lo devo far vedere eccolo questo eyeliner lo cercavo stamattina ma cosa ci fa qui dentro tu vai qui praticamente questo quando è in uso qui ha una lucina led che punta dove stai passando il silk peel e quindi riesce a vedere bene anche se hai preso tutti i peletti è meraviglioso e questo viene anche con la testina per il rasoio poi qui c'è questo cassetto un po' più grande dove ci sono un po' di pochette vari all'interno poi sempre che ho preso online questa sedia carina secondo me stava bene insieme insomma a questa scrivania qui accanto c'è il letto è un letto di quelli con il cassettone sotto come si chiamano letto contenitore si dovrebbe essere letto contenitore dietro abbiamo rivestito così la parete e abbiamo messo anche un controsoffitto con i faretti vale è molto carino mi piace un sacco mi piace tantissimo questo grigio però forse avrei preferito una finta pelle perché questo accumula polvere ogni volta bisogna passare l'aspirapolvere qui sopra quindi è un pochino scomodo in questo senso il copriletto questo giallo senape che mi va a riprendere il colore del divano che poi vi farò vedere qui c'è un pile uno scrunchie e questa è la next to me dove dorme Giulia praticamente perché la notte l'attacco al letto che vedete ha questa è fantastica perché vedete ha i gancini e sono già posizionati attaccati al letto vedete si attaccano la next to me e questa rimane ben ancorata questo volendo si può tirare sopra e diventa appunto proprio una culletta poi ha lenzulino popertine varie poi il giochino della next to me che sia stracarino me l'ha regalato mio fratello se non erro c'è azzurro e rosa e questo fa vabbè gira quando me lo accendo gira e fa anche le canzoncine poi c'è il cuscino per l'allattamento qui in realtà io prima di prendere questa avevo messo questa specchiera che in realtà non è solo una specchiera perché è una di quelle specchiare contenitore che io amo ecco qui e anche per quanto riguarda il bijou devo dire che ho fatto una super selezione perché ne avevo tantissimi e poi mi sono resa conto che ne mettevo sempre mettevo sempre gli stessi quindi ho detto vabbè tanto vale essere minimal io fantastica ovviamente lì sotto c'è anche una borsa dell'acqua calda e questa è carina perché ha anche il cassettino quindi vi dicevo questa prima era lì adesso l'ho messa in questo spazietto tra il mobile e qui la parete questo è l'armadio della stanza vi dico all'interno c'è il caos perché ho fatto mettere soltanto gli appendi abiti e me ne sono strapentita voglio tornare al negozio e ordinare tipo delle cassettiere anche magari mettere dentro dei ripiani non lo so però me lo vorrei gestire un pochino meglio comunque vedete che agli inserti grigi per questo la scelta del letto grigio è ok vi dicevo qui non so cosa fare perché da una parte vorrei mettere una cassettiere sarebbe anche molto molto comoda dall'altra però sono un po' indecisa perché comunque questa parete bianca mi è comoda per quanto riguarda il lavoro lì sopra invece vorrei lì in quella zona lì vorrei mettere delle stampe qualcosa devo capire un attimo non so se mettere uno specchio enorme o delle stampe mi tentano entrambi non lo so e questa quindi è la camera da letto nel prossimo video vorrei farvi vedere i bagni ora vediamo un attimino comunque più avanti se dovessi aggiornare un pochino vi farò degli update fatemi sapere cosa ne pensate e niente io vi ringrazio tantissimo per aver visto anche questo video vi mando un bacio un abbraccio e ci vediamo al prossimo ciao ciao